Buongiorno, buongiorno feccanieri, buongiorno feccanieri, allora benvenuti sul canale, mi raccomando iscrivetevi a questo canile, iscrivetevi al canile, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, seguitemi sui social qui presenti, seguite sempre violapresses, violapresses.com che vi dà info, notizie, aggiornamenti e novità sul mondo della Fiorentina. Siccome sono cavaliere, siccome sono notoriamente cavaliere, anche se non ce ne sarebbe bisogno perché se mi seguite su Instagram trovate tutti i menù del giorno dopo sulle mie storie, vi dico un po' il programma per questi giorni e per questo weekend che si sta avvicinando. Allora, quest'oggi, stamattina faccio questo video qui su Sanry, oggi pomeriggio video sull'Inter, crisi a Conte, processi, è già ora delle scelte e via dicendo. Questa sera per abbonati intermedi analizziamo la questione del capitalismo da garage, diciamo questa retorica sulle start-up che si creano nei garage e via dicendo, cerchiamo di andare veramente a fondo di questa narrazione che ci sentiamo da qualche anno. Dopodiché domani mattina per abbonati base ci sarà un'arena dei Botei con ospite il mio amico Gianluca per parlare del pre-Juventus Verona e poi si apre sostanzialmente la due giorni calcistica, anzi tre giorni calcistica, perché ci sarà l'Inter che giocherà sabato sera, ci sarà la Lazio che giocherà sabato sera, sono due partite che seguiremo, dopodiché domenica ci sarà il pre-Fiorentina-Udinese, il commento a Fiorentina-Udinese, domenica sera seguiremo Juventus Verona, lunedì ci sarà il giorno dopo della Fiorentina e poi la sera ci sarà l'esiziale Milan-Roma che ci gusteremo. Quindi questo è il programma. Ma veniamo all'attualità e veniamo al video che voglio fare oggi, perché non so se avete visto, ma se frequentate come il sottoscritto Twitter, ieri è stata una giornata, una giornatina abbastanza calda sul fronte Sarri con quello scambio di battute salaci tra Sara Meini e Nicolò Schira. Ieri Nicolò Schira ha fatto un post abbastanza pepato in cui dice sostanzialmente che non c'è stato secondo lui alcun incontro, alcun contatto tra la Fiorentina e Sarri per andare ad allenare la Fiorentina e sostanzialmente diceva che, piaccia o non piaccia, Sarri attualmente è tra i top allenatori italiani e negli ultimi anni è stato l'allenatore italiano che ha vinto di più in Italia e in Europa, che negli ultimi anni Sarri ha allenato Chelsea e Juventus vincendo e che quindi non si abbasserebbe, diciamo comunque non avrebbe la Fiorentina come priorità, ma preferirebbe aspettare la chiamata di una big e poi continuando questo thread, questa serie di risposte pepate e salaci ha detto che solo in Riva all'Arno la Fiorentina viene considerata una big o comunque una squadra del livello di Juventus e Chelsea, ve la faccio breve ma se andate su Twitter e guardate il profilo di Nicolò Schira trovate tutto. Allora, io non so se la Fiorentina e Riva all'Arno venga considerata una big, però ci tengo a una precisazione perché sul suo post lui ha scritto che la Fiorentina è da decenni che non lotta per Scudetti, Europa League e via dicendo, però attenzione perché mi ha soleticato il mio orgoglio, con i della Valle alla vittoria dell'Europa League un po' vicini ci siamo andati anche noi in due occasioni, tra cui una anche nell'ultimo decennio, quindi insomma è pur vero anche quello. Detto questo, insomma, io credo che pochi considerino la Fiorentina attualmente una big, un po' di sopravvalutazione nel corso di questi mesi, e anche attualmente la vivo anch'io a essere onesti, nel senso che c'è stata una grande autosuggestione dall'arrivo di questa società, c'è anche un'autosuggestione un po' su sta squadra perché ho letto alcuni commenti in questi giorni che parlando di Iachini, dicono che Iachini con questa Fiorentina è come Darna Ferrari a un bambino, insomma si tende a vedere la squadra come forte o fortissima e avere un allenatore incapace. Allora, io sono il primo a dire che sicuramente con altri allenatori questa squadra qui dal punto di vista soprattutto del gioco e delle scelte potrebbe fare meglio, ma ricordiamoci comunque che siamo l'ottava rosa per valore di mercato della Serie A, che a centrocampo a livello di acquisti si poteva anche fare meglio, che in attacco c'è del lavoro da fare, cioè se fino a due anni fa la Fiorentina dei Pioli, dei Piazza, dei Muriel, Simeone, Gerson, Edimilson, Veretù e via dicendo era una squadra che la Piazza vedeva con snobismo, ok? L'ultima dei della Valle era vista con snobismo come la Fiorentina dei Gerson ed Edimilson, se quella Fiorentina che era la settima per valore di calciomercato in Serie A veniva vista con snobismo, neanch'io onestamente non capisco il vedere questa che è l'ottava come una Ferrari onestamente, cioè questo neanch'io lo capisco molto. Detto questo però è evidente che è una squadra che insomma un tantino meglio dal punto di vista del gioco e delle scelte di come si sta facendo adesso, soprattutto in attacco a mio avviso lo può fare, a mio avviso sicuramente lo può fare. Bene, detto questo, io quest'oggi voglio fare un video, sì non è di certo una Ferrari questa squadra qua, insomma questo intendo dire, è una squadra che può fare un po' meglio però insomma ricordiamoci che è comunque l'ottava squadra per valore di calciomercato della A ed è, abbiamo sette squadre che sopra di noi, almeno sette che sopra di noi sono un po' più avanti. Detto questo, io in questo video qua non voglio dire, non è un video questo in cui vi dico se mi piacerebbe Sarri alla Fiorentina, che tanto insomma è una risposta più che ovvia, non è un video in cui vi dico se è un bene o un male prendere Sarri adesso, questo è un video in cui semplicemente in maniera asettica, in maniera il più possibile oggettiva, voglio andare a capire insieme a voi se, come dice Schira, è quasi impossibile che Sarri venga a Firenze, oppure se ci possono essere delle possibilità che Sarri venga alla Fiorentina in questo momento storico. Allora intanto dobbiamo analizzare la figura di Sarri e qui sono d'accordo con Schira, nel senso che io penso che Sarri sia un allenatore che adesso o anche a giugno, se saltano delle panchine importanti in Italia ma anche in Premier dove ha già allenato anche abbastanza bene o anche in Liga, possa avere le sue chance da giocarsi. Ma anche in squadre come per esempio, non lo so, un Arsenal che dovesse per caso cambiare allenatore, un Manchester United che dovesse cambiare allenatore, perché no? Un ritorno al Chelsea, perché no? Perché no un ritorno al Chelsea? In Italia, ma puttacaso che Pioli inizia ad avere difficoltà a devastare tutto e a fine anno ci si debba salutare, ma perché no un Sarri al Milan? Perché no un Sarri alla Roma? Perché no un Sarri puttacaso in un Inter che a fine anno decide di salutarsi con Conte? Ci sono problemi? Cioè è un allenatore che quantomeno delle sue credenziali, delle sue candidature anche in squadre molto importanti le può sicuramente lanciare. Vi dico però anche un'altra cosa, Sarri è una persona che ha una formazione calcistica, una carriera calcistica poco snob, nel senso è un allenatore che viene dalla gavetta, che ha fatto tanti anni nelle serie inferiori C, B, anche D, eccellenze e via dicendo, che a mio avviso non si fa problemi se il progetto lo convince ad allenare anche una squadra che non è immediatamente tra le principali certo però che per essere convinto deve avere ovviamente pensiero a buona offerta economica perché comunque un allenatore che a Juve e Chelsea viaggiava su quanto? 5,5-6 milioni di euro all'anno di stipendio ma soprattutto secondo me tu che sei la fiorentina per convincerlo a venire a Firenze devi mettere sul tavolo anche un ruolo molto importante di Sarri cioè se tu ti ritrovi magari a competere con delle offerte che Sarri può ricevere da squadre tipo Manchester United o squadre di medio-alto calibro devi cercare di mettere qualcosa in più sul tavolo che può essere o un'offerta economicamente maggiore per lui però metti che ti ritrovi a competere con un Manchester United ed è dura fronteggiare quella concorrenza oppure dargli un ruolo di manager con una potenzialità di spesa tra virgolette o di operatività sul mercato che altrove non avrebbe e da sto punto di vista qua io vi dico che la fiorentina nei prossimi anni va verso se le cose sono come sembra una operatività sul mercato buona perché non ci dimentichiamo che noi pur con quella formula di 500 modi e via dicendo abbiamo ceduto Chiesa alla Juventus nei prossimi 5 anni ci entreranno quei soldi oltretutto magari se a fine anno cederai pure Milenkovic anche lì sono soldi che comunque ti possono so comunque soldi quindi tu dai prossimi mercati volendo se fai le cose bene può essere che tu abbia una buona cifra da mettere a disposizione a Sarri per dire vieni qui abbiamo questa cifra qui questa possibilità di investimento ricavata dalle cessioni puoi essere tu manager all'inglese della fiorentina e gestirti le tue carte io penso che l'unica possibilità per far venire Sarri in questo momento sia questa cioè quella di convincerlo a fare un ciclo che magari può anche essere l'ultimo della sua carriera in cui non viene solo a fare allenatore ma viene a fare proprio un manager all'inglese nella squadra della sua regione nella squadra un po' simbolo della sua regione e questo può essere un altro elemento di fascino cioè lui è toscano penso che in Toscana la fiorentina sia un po' un punto di attrazione calcistica per tutti perché è la squadra più importante sicuramente della regione e quindi io ci credo che lui voglia prima o poi allenare la fiorentina il problema è che è sì un allenatore maturo però non è neanche così vecchio del tipo che ha ancora solo uno o due anni davanti Sarri quanti anni ha? 61? 62? io penso che 5-6 anni ancora ad allenare possa farli se sta bene e in 5-6 anni due squadre anche tre le può allenare tranquillamente aprendo dei cicli di medio-breve durata quindi io ci credo che lui possa avere offerte di altre squadre ci credo anche, come dice Schira sì, ci credo che lui possa avere la gola la voglia di andare prima a sondare di vedere se ci sono squadre importanti che lo cercano questo sicuramente sì anche perché avendo conosciuto il grande calcio tardi ha un po' di fame immagino di rimanere ad altissimi livelli e di sparare tutte le cartucce che può fino alla fine e quindi ci credo sì che lui magari abbia le antenne dritte per degli squadroni è anche normale però penso che delle piccole possibilità per la fiorentina ci siano il problema è che anche per esempio adesso commisso commisso se ne va tra quanto? una settimana mi sembra che se ne vada e nel cercare di convincere uno come Sarri non è una cosa che si fa in due minuti una mattina in hotel devi andare lì con dei progetti devi andare lì dicendo guarda nei prossimi anni voglio fare tot 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 voglio spendere tot 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 posso spendere tot 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 i miei obiettivi sono questi vorrei che tu fossi diciamo l'uomo immagine di questo noi attualmente siamo già abbiamo già dei problemi con le tempistiche perché a meno che non sia stato fatto già tutto prima ma dubito è una cosa che va iniziata a sondare questa siamo un po' una dirigenza che è abbastanza alla giornata insomma nel senso che non è che in sti mesi qui abbiamo brillato per lungimiranza o progettualità secondo me quindi l'unica cosa l'unica strada l'unica situazione soluzione che potrebbe veramente rendere feconda una trattativa per portare Sarri alla Fiorentina anche questa anche in questo momento è che commisso stesse due tre settimane ancora a Firenze andasse da Sarri e gli dicesse ascolta io so che tu puoi avere anche altre offerte da altre squadre però io sono arrivato da un anno e mezzo ho fatto i miei errori desidero cambiare la dirigenza desidero avviare una nuova progettualità e desidero che tu non solo sia l'allenatore di questa squadra ma sia un po' il Ferguson di questa Fiorentina nei prossimi anni noi abbiamo delle entrature economiche derivanti da cessioni o magari anche dalla nostra crescita che magari può arrivare da altro che ti possono permettere di fare dei calciomercati in entrata comunque presenti vorremmo che tu chiudessi o comunque venissi ad allenare la Fiorentina per aprire un ciclo importante che ci porti nel giro di qualche anno magari a tornare a livelli Champions con una progettualità imperniata sulla tua persona sappiamo che tu da altre parti potresti andare ad allenare squadre magari più importanti ma noi ti offriamo magari quello che altre squadre non ti offrono cioè di diventare il Ferguson della Fiorentina anche con una competenza estesa rispetto all'ambito del solo allenatore magari al mercato magari alla progettualità negli anni a venire e via dicendo Commisso dovrebbe diciamo fare questo nel momento in cui Commisso dovesse entrare in quest'ottica per me non è che non hai possibilità qualcuna ce l'hai vi dico di più paradossalmente sarebbe più facile convincere Sarri di Spalletti secondo me per questioni di età per questioni anche di formamenti se meno di bocca buona Sarri è paradossalmente pur prendendo di più per me è meno e meno di bocca buona rispetto a Spalletti quindi io non sono così convinto che nel momento in cui tu ci provi non hai nessuna possibilità non sono convinto di questo una piccola percentuale c'è non è grande ma una piccola percentuale c'è il problema è vedere se tu finora ci hai provato e io vi dico la verità io credo a Commisso io credo a Commisso che esce dall'hotel e dice sono fake news perché per me ad oggi Commisso è non dico contento di Iachini ma io credo che lui veramente sia convinto che con Iachini ci possa essere una risalita o che comunque il livello che sta avendo Iachini nella gestione della Fiorentina non sia così scandaloso come invece percepiscono i tifosi anche perché se ascoltate le sue le sue dichiarazioni di inizio anno Commisso non ha parlato di Champions di Europa League o di niente anche perché questa squadra non è sulla carta costruita per andare in Europa League o in Champions lui ha detto voglio una squadra che arrivi sulla parte sinistra della classifica se Iachini fa una vittoria contro l'Udinese domenica paradossalmente già ci sei però sto dicendo che abbia ragione perché vedete anche a me che non è che mi soddisfi quelle che sono tutte le scelte di Iachini non mi soddisfano per niente specie in attacco specie in attacco altre magari sì ma in attacco no ed è grave e anche il discorso sulla svalutazione dei giocatori ecco io non credo che oggi Commisso percepisca sta urgenza sta urgenza di una squadra che lo urta sta urgenza di una progettualità da cambiare sta urgenza di una dirigenza da rifare io vedo un presidente che non ha che non ha quel fuoco che lo anima capito che abbiamo magari noi che seguiamo la Fiorentina che siamo cultori capito della viola fino in fondo da tifosi, da appassionati lui viene da una cultura calcistica di tutt'altro tipo di tutt'altro tipo non hai quei pattern come dicono i bagliazzi capito che ha che ha il tifoso sanguigno italiano lui è qui vede una squadra che magari si aspettava qualcosa di più ma non credo che Commisso non dorma la notte pensando a sta Fiorentina non credo che Commisso non dorma la notte quindi tu potenzialmente convincere un Sarri potresti ma servirebbe un approccio e un'urgenza paradossalmente una priorità una priorità data a sta cosa che ad oggi onestamente non vedo che ad oggi onestamente non ho visto in questi giorni servirebbe vi ripeto un Commisso che resta qui qualche giorno in più un Commisso che si rende conto dell'urgenza tra virgolette che voi avete che a Firenze che i tifosi della Fiorentina hanno che noi per certi versi possiamo avere nel percepire un Sarri a Firenze che si analizzasse la situazione non solo ad oggi ma aprendo un ciclo almeno mentale per i prossimi anni a venire e che si capisse quali sono le migliori carte per convincere un Sarri a venire a Firenze a mio avviso il discorso di un'offerta economica congrua e di un discorso di renderlo manager all'inglese della Fiorentina potrebbero fare breccia cioè o comunque potrebbero darti delle carte che non è che Sarri ti sputa in faccia casomai dice beh ci penso è una cosa interessante ci penso e vediamo quantomeno ci hai provato lo abbiamo fatto finora questo dubito 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 si potrebbe fare giocandosi qualche carta? per me sì per me sì per me volendo potresti però servirebbe tutt'altro approccio alla questione tutt'altra forma mentis rispetto a quella che è oggi la Fiorentina e a quello che si potrebbe fare avendo un'ottica dirigenziale e progettuale di un altro stampo comunque o comunque diversa questo penso su Sarri alla Fiorentina oggi questo penso su Sarri alla Fiorentina oggi il sottoscritto di S è Sarri allenatore lancio questa partita partiti vi lascio con questa puntatina vi lascio con questa puntatina partiti partiti mi sono fomentato un caro saluto e mi sembra che dovevo aggiungere qualcosa ma non mi ricordo Sarri ho parlato Fiorentina Firenze allenatore Iacchini ho detto tutto mi sembra ho detto tutto sì ho detto tutto e ah sì no niente volevo dirvi che parlerò di Fiorentina il pre-Fiorentina udinese lo faccio direttamente domenica mattina e e parleremo del discorso attaccanti ma soprattutto che sento gente che si augura di perdere con l'udinese insomma no dai questo no questo no questo no questo no non è non è mai giusto e bisogna sempre comunque ti fare sempre comunque ti fare la Fiorentina un caro saluto e a domenica mattina a meno che non succedano tragedie tra oggi e domani che intervengo sperma gamba tesa con un video ma dubito se tutto fila per la normalità ci sentiamo domenica mattina grazie a tutti